Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi io farò l'ottava challenge. Allora, di stare con i piedi attaccati al muro e fare la bottle trip. Proviamo! Ciao, proviamo questa nuova charlet. Ciao a tutti. 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 Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buon bacio. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.